Il prossimo pezzo è Nike, R-Shadow, official music, direzione by Lorenzo Galassi, postato da Purple Pasta C'è anche un video, intanto prepariamo subito Prepariamo il sondaggio X, 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 tentazione, tentazione Vai, vai, un arbitro Oh, il scratch Sono nato, bastardo, yeah, yeah, sono nato, yeah, yeah, sono nato, bastardo, ok, yeah Sono nato, bastardo, no fra che non cambio Affilato i denti, resto vivo nella jungle Il tuo capo branco mi sta massaggiando il cazzo Schiavo liberato, spara a vista come jungle E' uno dei pochi ragazzi di seconda generazione che sanno rappare in Italia, non ci posso credere Non ci posso credere, è forte E' pure fregno C'ho le borse agli occhi Sangui sulle Nike, ci prendiamo i nostri posti Tiro fuori il mostro perché viviamo tra i mostri Tu salti, salti, fra di gioia, ma ti fanno In corsa contro il tempo, negro c'ho la fanno Siamo tanti in gara e un po' chi ce la fanno Questa fra la ganga, schifo la tua banda Fin da bimbi a procurarci ciò che manca a mamma Più di un mese in casa, più di un cifre in gabbia Questa vita è una puttana che spesso ci graffia Sono nato, bastardo, no fra che non cambio Affilato i denti, resto vivo nella jungle Il tuo capo branco mi sta massaggiando il cazzo Mi fa un botto ridere sta frase Purtroppo il fatto che non... Menti, al popping, dai, che bomba Breaking, popping C'è poca innovazione nel testo, però Mi fa ridere Oh! Per i bro mi faccio mille mica frati in quattro Sono la parla nera sull'asfalto e faccio un click se ne va Resto come homies con la green nella cara Nel ciblu fra corri no a shit dentro al club Puoi tenere innamori per me un kill, dice il fra Meglio che ti spassi Sono nato, bastardo, no fra che non cambio Affilato i denti, resto vivo nella jungle Il tuo capo branco mi sta massaggiando il cazzo Schiavo liberato, spara a vista come jungle E faccio gap, damn, si sto con la gang In giro con le scarpe nuove Naki de Monfer Porca puttana È che non ci trovo innovazione Però è bravo il tipo Secondo me può migliorare tantissimo Secondo me se trova una strada sua Il pischello qua può fare roba figa, raga Anche pubblicità alla Nike Col commesso Ma il commesso gli ha rubato le cose da Da Foot Locker Oppure Gli era solo prestate Punti domanda E la ragazza perché fa la fica in camera E fanno vedere i braccialetti d'argento Allora secondo me Non ci vedo tutta questa innovazione che potrebbe esserci Comunque il ragazzo vince con 159 votazioni E 27 Qualcuno mi segni per favore Are Shadow Come uno dei vincitori degli inizi Mi raccomando segnate anche la votazione Va bene? Andiamo avanti Secondo me il tipo La fotta dello stile c'era Allora 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 Grazie a tutti.